musica acuna matata ragazzi ben ritrovati dal vostro ciccio gamer 89 finalmente e dico finalmente siamo ritornati su me di evil e siamo riusciti a prendere anzi ad aiutare la stregaccia quindi dobbiamo ritornare esattamente qua quindi giochiamo un attimo sto livello vediamo un po' che succede che poi mi sembra che dobbiamo trovare i macchinari di un qualcosa i campi degli spaventapasseri che poi tra l'altro non so a voi come sta andando ragazzi ma io sto a giocare a carte ma sto a perdere tutti i sordi fatemi sapere magari in qualche commento che vi è successo se è stata a vincere se è stata a perdere allora salve sordania come va tutto a posto? non parla molto allora tu vai via schereto che cacchio allora vai via ma comunque mi avete detto che per ricaricare la la spadona per ricaricare la spadona dobbiamo andare tipo da un fabbro da qualcosa del genere intanto fatemi ammazzare questi eh intanto fatemi ammazzare questi Sir Daniel va ci dobbiamo dare da fare eh ok siamo riusciti ad andare un po' avanti aia corvi del cacchio e qui tipo dovremmo trovare qualche cosa ma il punto è che cuscia che cuscia dobbiamo trovare allora qui niente che quasi cacchio dei labirinti ma con bel fiammifero se sarebbe risolta la maggior parte dei dei problemi ma qui che abbiamo un fuoco ma con un fuoco molto probabilmente e dico molto probabilmente diamo fuoco a questo vai via muori muori ma vai via manicoldo manicoldo che mi dà? eh un tesoro fantastico ok andiamo aspetta ma qui c'è qualcosa? eh sì eh sì signori ma non c'è niente eccolo 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 che cos'è? ingranaggio allora mo torniamo indietro ai ai ok ma che poi tra l'altro mi era rimasta sta cosa in testa di mettere st'ingranaggio ma non mi ricordavo proprio di dove prendo e basta tu muori ci hai scassato dopo un po' schiassi ecco quindi entriamo qua e poi la cosa oh via via i bistrelli i bistrelli allora aia vediamo se lo devo spostare intanto eh eh sì signori vai serdani è grande ok questo lo mettiamo qua questo lo apriamo mi da uno scudo ma non ci faccio niente wow sono quasi emozionato perché è un ragno meti masticosi masticosi non li posso uccidere c'è vedete qui manicoldi pevistrello manicoldo pevistrello pevistrello vabbè ma vaffanculo ah eh chat bitch ok allora vai qua perché non me lo fa mettere vediamo eh alla meditrice manca un pezzo un ingranaggio di questo miracolo dell'agricoltura moderno è stato perso da allora non ha più funzionato eh ok io adesso ce l'ho no io adesso ce l'ho aha eccolo qui oh dove va è tipo una carrozzella serdani andiamo a vedere ah intanto facciamoci una bella ricarica ragazzi vi giuro sono contentissimo di aver trovato il pezzo non me lo ricordavo non mi ricordavo che era una carrozzella la carrozzella a metri di grano tipo qualcosa del genere qui ci stanno le rane mega galattiche e mi manca ancora un pochetto per prendere il grano uh che ho trovato allora vediamo qua vediamo servizi aaa bello avete capito l'ho trovata cioè l'abbiamo trovata siamo di grandissimi quanto mi manca per guardate è dorata no ma si scarica velocemente vieni da qui i manicotti i manicotti ok niente dove dove dobbiamo trovare assolutamente gli altri ragazzi voglio prendere aspetta ma se io la tolgo lo vediamo eh ma lui come l'ho ammasso aspetta eh vieni qui il manicotto uh ah ragazzi si praticamente sono morto quindi mi sto rifacendo il livello ma ho capito che per prendere anche il fottutissimo calice devo uccidere completamente tutti devo fare tipo una strage quindi già sappiamo come prendere il meccanismo quindi molto probabilmente se succede qualcosa di particolare ve lo faccio vedere perché se no io continuerei oltre a prendere ammazzati in faccia questi aia ah intanto dei fuoco ok tu mori prendo fuoco a questa roba vabbè ci vediamo quando comunque sono un po' più avanti ok ragazzi ora posso prendere il calice speriamo di non morire prima perché se no la bestemmia facile è è d'obbligo quindi speriamo di prendere un po' di vita e di non eh qui la situazione si fa complicata eh qui veramente la situazione si fa complicata ragazzi eh ah qui piano 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 oh vai 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 ci 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 nel frattempo da me sta tipo per venire giù un temporale del pazzesco intanto ciuccia ser daniel vai vai ciuccia tanto è gratis perfetto quindi andiamo a prendere sto cacchio di engranaggio aia eccolo qua l'ingranaggio e ora ritorniamo indietro mamma mia quanto sono forte qui il carto che culo però va bene comunque questo martellone è tipo devastante ragazzi è proprio il devasto comunque come ho detto ho perso un sacco di sordi a carta raga io spero che almeno voi cari amici vi siete portati qualche soldino a casa fatemelo sapere ma con calma ser daniel non ci agitiamo con una dovuta calma bravissimo ser daniel aia ser daniel ser daniel non è che stiamo messi benissimo ok ah tipo mi ha tolto tantissimo ok no 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 come via ok no ok calma allora eh ah vediamo un po' se funziona sta cosa prendi sto pollo uh vabbè mi da pochissimo comunque pollo aia pollo pollo io da tipo pochissimo ma che delusione ok andiamo a sbloccare sta macchina oh mio dio speriamo che muori muori perfetto sono troppo forte ecco troppo forte vai oh carrossella devastatrice uh vita gratis prendi ser daniel prendi vai sardaniel dentro sardaniel e voilà il salone degli eroi mi attende siiii ok adesso dobbiamo semplicemente andarcene da qui molto semplicemente ci siamo ci siamo sempre riusciti speriamo di farcela ancora e voglio vedere che cosa ci danno nel salone degli eroi aia Via, 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 via. Ed eccoci qui, via or su da questo luogo, Sir Daniel Fortisguio, il salone degli eroi. Sono curiosissimo ragazzi, sono veramente curioso. Grande Sir Daniel, sei veramente. Andiamo, Sir Daniel La strategia per avanzare È crearsi degli alleati nel salone degli eroi Eh, è fin qui, ok Qualche testa di zombie caduta E pensi di poterti riscattare in battaglia Hai ancora molta strada da fare Per diventare uno dei migliori Eh, vabbè, pian piano Sir Daniel, mandalo a cagare Vai, Sir Daniel Che c'abbiamo qui Qui no Qui, ancora sto stronzo Che mi devi dire? Ah, bello Mo ti toto schiaffi, eh Ti do proprio tu schiaffi Sì, accetto Eh, te sei sprecato Tutta sta abbondanza Ma vaffan... Bah In prestito Ma chi ti dà più? Ma scartato proprio Sardagno Sardagno, sei un figo Ragazzi, direi proprio che l'appuntamento può finire qui Perché sta facendo un temporale della miseria E comunque abbiamo finito il livello Eh, fatemi sapere un po' come sono andate queste festività Se vi siete divertiti Se avete vinto qualche cosina a carte Dai Comunque Eh, se il video vi è piaciuto Eh, lasciatemi un bel pollicione in su Commentate Al prossimo appuntamento con il vostro Ciccio che è meno 89 Ciao Ciao Dai, vieni sul canale di Ciccio Oppure in diarrea tu andrai Te devi, dai, scrive E mentre mi piace se no un pugno su un banchone Te devi, dai, spiegare adesso con il cubetto di entrerà Un pagu, un guasa e grande E se condividi, non lo fa